Una decisione annunciata da tempo e ufficializzata il giorno dopo il passaggio di consegne con Antonio De Caro, la cui città metropolitana raccoglierà nei fatti il testimonia della provincia di Bari, il cui ultimo presidente, Francesco Schittulli, si candida a diventare governatore della Puglia. Metto la mia esperienza di uomo e di medico a disposizione della mia comunità, per amore della mia terra. Oggi inizia una campagna elettorale che tutti dicono essere una corsa difficile, ma in realtà difficile vivere in Puglia così come è stata governata negli ultimi dieci anni e che ha bisogno assolutamente di discontinuità a causa di un governo che non può e non deve ripetersi, ha scritto sul suo nuovo blog inaugurato proprio nelle scorse ore. La candidatura di Schittulli è la seconda per il centrodestra pugliese, che ancora non ha ufficializzato se e come si svolgeranno le primarie, fissate per il 23 novembre ma ancora subiudice. Se Nino Marmo, l'altro candidato, spinge quotidianamente per un pronunciamento ufficiale del partito, la mossa dell'ex oncologo e presidente provinciale si pone già forse oltre le primarie, verso una delle ipotesi ventilate da tempo, quella di un candidato indipendente in grado di unire la coalizione. Il modello è quello, a dire il vero un po' sfortunato, della candidatura di Domenico Di Paola alle comunali di Bari, da portare avanti stavolta con più accuratezza. Una decisione sulle primarie andrà comunque presa nel giro di pochi giorni, dal momento che il tempo stringe. Nel frattempo il principale sponsor delle consultazioni, Raffaele Fitto, parteciperà sabato a Milano alla cosiddetta Leopolda Azzurra del centrodestra, insieme all'NCD Lupi e a Crosetto di Fratelli d'Italia, un passo in più che lo allontana da Silvio Berlusconi.